bene, anche meglio se c'è la capacità di raccogliere. Alla tua domanda siete disponibili a candidati? Certo. Alla condizione che una regola elettorale consenta ai cittadini di votare. Secondo, dando un contributo che si conosca e si riconosca ad un progetto di sviluppo come quello che è già accaduto in molte parti di Europa. Io sono un irrisolvibile, invidioso quando vedo che le marche hanno 220.000 imprese, Raffaele, io sogno che le 133.000 imprese dell'Abruzzo diventino 200.000 e poi si ingrandiscano, si internazionalizzino, si innovino, facciano ricerca insieme, si distrettualizzino, si combinino facendo pezzi combinabili di produzione, di ricerca e sviluppo, tutto quello che è già accaduto in altre parti del mondo. Concludo, Raffaele Bonardi, mentre venivo qui mi tornava in mente una battuta di un monsignore della diocesi di Chiedi, io non so se voi fate parte di Sulmona o di Chiedi, di Chiedi, no Sulmona siamo religiosi, c'è un paese ai confini quadri, fa parte della diocesi di Sulmona e Balba, nonostante che siamo, sì sì, perché la religione si prende anche ciò che sta in alto dei territori. Sì, ma addirittura fa parte di Triveni. Monsignor, forse bisognerebbe seguirla pure per ridimensionare i tribunali, forse un'occhio più geodetica. Monsignor Valentini, Antonio Valentini, sacerdote a Pescara e poi vescovo a Chiedi, disse prima o poi mi dovrò regalare il tempo per cercare di capire perché, e io dico sono contento, diceva lui, l'appruzzo ha dato luogo ai Natali a così importanti sindacalisti nazionali. E lui avviò una riflessione. Insomma, ci sono state personalità del sindacato, uno magari voi non tutti insieme ricordate che è stato quasi da natalità abruzzese, benvenuto se non sbaglio, e poi gli altri che voi sapete. Io completai un inizio della sua riflessione dicendo a Monsignor Valentini, del quale sono stato un collaboratore, perché è nella storia dell'Abruzzo un certo dialogo competitivo con i poteri. Anche nei rapporti con l'antico Impero Romano, l'Abruzzo fu un fasoletto di terra che si batteva e si dimenava alla ricerca di libertà. La storia della moneta e la storia del nome italico sulle alture delle sorgenti del fiume Pescara nasce perché l'Abruzzo ha sempre espresso questa potenza di dialogo competitivo. E nella vicenda sindacale io ci vedo questo. Ma detto questo, io ritengo che gli uomini che hanno fatto il cammino di Bonanni abbiano da mettere sul tavolo un patrimonio di esperienza e di relazioni che secondo me è una componente importante dello sviluppo. Guardate che fare politica e rappresentare come insegna l'Università Ornaghi significa dire bene, prefigurare una realtà che non c'è e che ci può essere. E chi ha già un patrimonio di relazioni, di conoscenze, ci fa trovare avvantaggiati o no? Io penso di sì. E l'Abruzzo deve sapere fare sistema di questo patrimonio, di legami che ci sono dentro di sé e fuori di sé, come ha saputo fare la Lombardia. La Lombardia di Bassetti, che è stata la migliore della Lombardia. Era questo, un continuo cercare chi aveva legami con chi, ma non per fare lobby assistenziale da regalia, ma per fare battaglia per il progetto. Ecco, io per questo mi auguro che Bonanni confermi la passione per gli ulivi del suo tenimento agricolo. Rinnovi il suo legame con quel paese molto esigente, che è Bomba, che ha dato i Natali ad una delle più grandi personalità del Risorgimento, come voi sapete essere stato Silvio Spaventa. Napolitano ha detto che è stato dopo Cavour la più alta personalità dell'Italia per la battaglia e le esperienze del Risorgimento. Io però mi auguro anche che lui cominci ad aumentare il tempo della dedizione per le questioni abruzzese, nella formula che a lui sarà congeniale, compatibile con quello che lui stabilisce a essere il suo percorso. Però io credo e concludo che l'Abruzzo in questa fase non può fare a meno di queste speciali autostrade. Esistono quelle immateriali e le abbiamo fatte, grazie a Dio. Quelle immateriali, che sono la tecnologia, poi esistono quelle relazionali e occorrono. Sono il sostituto del denaro pubblico che non c'è più. Questo è quello che dico. Domani, la domanda è sempre la stessa. Quindi per il prossimo futuro, viste le scadenze che arriveranno quelle elettorali? Ti sentirai disponibile a mettere a disposizione del prossimo e a un'eventuale candidatura? E se è così, quali sono le condizioni che potresti richiedere? Io uso comunque il condizionario. Ho già avuto modo di dire più volte, e sono sincero perché sono abituato a dire quello che faccio, di proseguire il mio cammino nel sindacato. Perché credo che in un momento così complicato per la vita sociale italiana avere corpi intermedi, associazioni del lavoro, realtà solide che si mantengono tali, non perché io abbia qualità grandi, ma perché si sa, ho già esperienza lì, fare cambiamenti nei momenti come quelli che stiamo attraversando dentro l'organizzazione può comportare qualche scompenso. E credo però che il Paese ha bisogno di una classe politica certamente affidabile, come si diceva avvocanzi, persone che hanno la fiducia, che hanno reputazione e esperienza, ma c'è bisogno anche di corpi intermedi, di associazioni, di realtà che costruiscono il sussidiario, cioè quell'impegno di persone per fare cose che permettono loro di autoamministrarsi in modo tale da rendere più agevole lo svolgimento della vita comunitaria per le esigenze che si hanno, ma la cosa più importante per uscire dalla mentalità statalista è entrare in una mentalità di autonomia e per promuoversi come soggetti capaci di rinnovare costantemente la politica stessa. La politica non si rinnoverà se non ci saranno donne e uomini impegnati dalle cose minute alle cose più grandi. Abituarsi a fare questo significa promuoversi classe dirigente. La classe dirigente non si può prendere alla rinfusa dalle professioni e così via perché produce solo quello che abbiamo visto nell'ultimo ventennio. La distruzione della reputazione della politica deriva da questo, complice anche di un sistema elettorale che scollega completamente le persone dai propri rappresentanti. Io stesso non conosco i deputati e i senatori della mia zona e questo vuol dire tutto e questo oltre che a creare queste condizioni disastrose ha permesso anche ai partiti spesse volte diventare luoghi amministrati da oligarchi, gente che non rende conto a nessuno, dicevo l'altro ieri a un giornalista dalla stampa come intervista, non a caso i litigi nei partiti si portano subito in tribunale o si regolano dal notaio. Una cosa inconcepibile fino a vent'anni fa dove invece era l'apporto, la dinamica democratica interna che addirittura regolava questi aspetti. se c'è bisogno quindi alla fine di partiti più affidabili, con uomini affidabili, c'è bisogno anche che il tessuto civile venga regolato e gestito perché le democrazie mature e avanzate hanno bisogno delle istituzioni, della politica che alimenta le istituzioni e di una realtà civile organizzata che si organizza per autogestirsi e per autoprodurre quella classe di gente che si rinnova costantemente, altrimenti oltre che professioniste e così via avremo cantanti, uomini dello sport, presentatori televisivi, persone degnissime, simpaticissime e anche oneste ma assolutamente poi incapaci di gestire situazioni come quelle che si dicevano poc'anzi. Quindi per quel che mi riguarda e questo non significa tirarmi fuori perché è un'idea molto precisa di come l'offerta politica deve essere riproposta. Io ho l'opinione e su questo darò una mano senza risparmio, lo sanno tutti, sto lavorando per questo, lavoro per questo, perché? Perché voglio impicciarmi nelle cose che non riguardano il sindacato. No, per salvaguardare l'autonomia del sindacato. Io credo che anche gli imprenditori dovrebbero fare per salvaguardare l'autonomia della loro esperienza. Tutti i corpi intermedi devono, tutte le associazioni devono, per salvaguardare la loro autonomia, che è un fatto politico in sé, devono appunto provocare una iniziativa nuova che produca nuova offerta politica, perché questa rarefazione della politica espropria il civile organizzato del proprio apporto. E così i partiti diventano oligarchici, chi è oligarca non dialoga, non ha bisogno del dialogo, rifiuta il dialogo. E se per caso, come è accaduto nell'ultimo ventennio, il mito del consumismo e il mito della finanza che doveva risolvere tutti i problemi che abbiamo, ha prodotto dei mostri, dei mostri nella democrazia. Ha prodotto la vocazione plebiscitaria, ha prodotto la verticalizzazione del potere, ha prodotto la distruzione della cultura della democrazia parlamentare, ha prodotto il presidenzialismo, insomma ha prodotto tutto ciò che spinge i cittadini a essere solamente dei telespettatori e degli elettori, quando ci vanno a votare, delegando tutto a qualcuno che deve risolvere tutte le incombenze. E abbiamo fregature continuamente. E averle queste fregature nel momento peggiore, come quello che stiamo attraversando, è molto, molto pericoloso. E se attorno a questo problema c'è un altro problema molto serio, che è i poteri non democratici, quelli democratici sono malati per quella ragione, quelli democratici sono invadenti, come la finanza, come il credito e così via, un potere straordinario che non rende conto a nessuno, quindi è importante che le realtà intermedie abbiano più potere e devono esprimere loro, come è successo all'inizio del Novecento, loro, tutte le realtà, non riguarda solamente una parte, tutte le realtà, di qualsiasi pensiero politico, devono queste realtà esprimere quella forza che già hanno espresso un secolo fa nel costruire tutti i partiti a natura popolare. Questo è importante. Se c'è una salvezza che noi dobbiamo assolutamente richiedere con molta forza è un impegno senza risparmio di ciascuno di noi per ricreare le condizioni di un legame forte tra i cittadini e la politica. Per fare questo abbiamo bisogno dei luoghi che fanno lievitare questa forza e che fanno sovrabondare appunto questa forza al punto tale da riuscire a fecondare la politica stessa. Diversamente noi dalla padella andremo alla braccia. Monti che è una brava persona non potrà salvarci. Perché? Perché non ha legami popolari. Ha legami solamente con le tecnocrazie e con i poteri della finanza. Monti che ha una forte vocazione europeista. Io stesso sono convintissimo che solo l'Europa può metterci in condizione di proseguire il nostro cammino di progresso. L'Europa però gestita da tecnocrazie e dalla finanza è un'altra storia da un'Europa a quel punto affidabile che poggerebbe a quel punto sulla propria cultura sociale propria dell'Europa se ricostruisce questo tessuto. Quindi le forze intermedie hanno una grande responsabilità. Devono osare di più, avere più coraggio e dare un colpo forte a questa condizione. Luciano mi diceva poc'anzi ma sta legge elettorale la fanno o no? Io gli dicevo ma che la dovrebbero fare gli oligarchi. Per loro fa comodo stabilire chi sono i deputati e i senatori. Non la faranno mai. È inutile che il Presidente della Repubblica le richiama un'altra settimana. Faranno finta di farla. All'ultimo momento non lo faranno perché è troppo comodo stabilire loro stessi chi saranno i senatori e i deputati e costruire nell'impalcatura oligarchica il loro potere fatto da una cerchia ristretta di persone fedeli per il solo fatto che dicevano loro. Altra storia è la vicenda delle preferenze. Mi associo perché ricostruisce il legame tra cittadine e persona che è il rappresentante. Ma la cosa più importante è che in questo legame si rinnova continuamente la politica. Perché? Perché i talenti essendo sempre apprezzati qualche volta le preferenze si possono gestire anche male. Ma prevalentemente si gestiranno bene. Rinnoverà fortemente anche la politica oltre scegliendo i talenti migliori oltre che naturalmente ricostruendo un rapporto. Quindi io sarò impegnato con la mia organizzazione a ricostruire un'offerta politica che dia più forza alla democrazia parlamentare. Perché io non ho mai creduto alla presidenza lì. Che ricostruisca una politica fatta delle cose che stiamo dicendo che riequilibri il rapporto con i poteri forti irresponsabili, con il credito e così via. A livello mondiale, spero con la finanza, attraverso un'associazione nuova da parte degli Stati per riequilibrare un potere così invadente e così esclusivo. Quindi si tratta di costruire una nuova stagione di impegni. Io domani vado lì a ricordare dei Gasperi per ricordare questo. E lo faccio proprio da sindacarista per quel che mi riguarda. Perché finché il sindacato non ha una realtà politica affidabile e popolare è in forze anche la propria autonomia. Perché realtà politiche costruite attraverso l'esperienza delle persone, riconosce una propria realtà simile, una realtà associata, una realtà viva, realtà che hanno poteri che li derivano appunto non dalla realtà democratica ma dal fatto dei soldi o di altre questioni. Non riconoscerà mai cittadini associati la vivacità che deve esserci necessariamente una democrazia. L'ultima questione è quello che si diceva poco anzi su che cosa bisogna fare in Abruzzo e il ruolo della politica. Sottoscrivo tutto quello che è stato detto. Io spero, io ci pensavo, tempo addietro leggevo e mi confrontavo con amici miei sindacalisti austrieci sull'esperienza che stanno facendo in un lander dell'Austria in un territorio, nella Carinzia che è una regione appunto non proprio sviluppata, né sottosviluppata e neanche molto sviluppata. Cioè una realtà che grosso modo simile alla nostra, tolta la provincia di Chiedi e il resto la provincia di Chiedi è molto più sviluppata. perfetto. E leggevo che in Carinzia come si presentano agli investitori, perché loro hanno in testa proprio di catturare gli investitori. Come si faceva negli anni 60 qui? Cioè appena c'era chi lo faceva, Gaspari andava appunto attraverso le sue conoscenze cercando di incanalare verso l'Abruzzo, però quelli al di là dei buoni uffici di Gaspari, quello che volevano sapere, la gente è specializzata o no? E noi obiettivamente non li avevamo tutti qui, però erano in Svizzera a lavorare nelle grandi industrie svizzere, erano in Germania a lavorare nelle grandi industrie tedesche, erano in Francia, erano in Belgio, quindi contarono moltissimo sul fatto di farli ritornare oltre che quelli che c'erano. E quindi loro si convinsero della bontà, della professionalità degli abruzzesi, per esempio, come della tenacia proverbiale e come appunto l'affidabilità delle persone, dell'equilibrio e così via. E allora, per esempio, loro dicevano, e si ricorda, che praticamente tassero zero nei confronti dell'investitore, anzi, a favore loro si mettevano a disposizione anche terreni gratuiti e anche servizi. E naturalmente per le autorizzazioni non c'erano tutte le complicazioni odierne. Niente burocrazia. una telefonata, una stretta di mano e l'autorizzazione era presente il giorno successivo. In Clarizia hanno fatto una sorta di menu per gli investitori. Un menu dove si dice quanto costa l'energia e loro ti dimostrano che l'energia lì costa poco. Chissà quanto costa qui l'energia, in tutta Italia, in verità. E qui. Quanto costano le tasse locali? Lì hanno ridotto al massimo, al massimo, al massimo, le tasse locali per incentivare che possono avvenire. Anche perché sono convinti di un fatto molto elementare, che chissà perché economisti così elevati non capiscono. Se tu fai pagare tante tasse, nessuno ti investe. Quindi niente avevi e niente avrai. Se riduci fortemente le tasse, dal niente passi a un poco. Meglio un poco che niente. però un poco che ti viene da un movimento economico che essendo un volano che gira sempre più forte, entra in un circuito virtuoso che crea delle condizioni, lo sviluppo che si sottolineano a poc'anzi. Loro ti mettono lì, appunto. Ogni cosa quanto ti costa. Se qui ci sono persone che faranno politiche, io sarò al loro fianco nel sostenerli. Se fanno la loro battaglia dicendo che gli abruzzesi devono, le istituzioni abruzzesi, devono presentare l'elenco di ciò che costa a un imprenditore che può investire, quello che costa su tutti i punti con cui dovrà confrontarsi. Credo che sarà un modo più semplice, ma anche più efficace. E questo crea anche una sorta di trasparenza che oggi non c'è. Ma crea anche un meccanismo di benchmarking con gli altri territori. E quindi cerchiamo di superare anche noi stessi. Io dico, ma se qualcuno si mette in testa solo questo programma, trova l'uovo di Colombo, perché io ho l'ossessione della inappetenza degli investitori rispetto all'Italia, rispetto all'Abruzzo e così via. Io trovo drammatico questo aspetto e mi fa specie che alcuni, ma neanche ci pensano. Hanno fatto una polemica a non finire sulle vicende alla Fiat, ma non capiscono che oramai gli investitori, la Fiat, oramai non è l'azienda stessa che mette i suoi soldi. Loro ci mette il know-how, la capacità di costruire veicoli, ma i soldi loro le prendono dai meccanismi internazionali di finanziamento. I soldi loro ottengono se l'intrapresa che propongono poggia su basi solide. Alcuni discutono come se stessimo gestendo le municipalizzate di Pescara o di Roma o di Milano e così via, che è altra storia. Decide la politica, è trombata la politica, tutti nei consigli di amministrazione, non c'è costi e ricavi, non c'è niente, c'è solamente il fatto che loro hanno deciso il prezzo e hanno deciso le condizioni. Quindi questo è un fatto molto, molto importante. Spero che voi lo utilizziate questo aspetto. Credo che questa sia la battaglia davvero. Se ci devono essere competizioni politiche, ci sia con nuova offerta politica, ma la nuova offerta politica deve ritornare con i piedi a terra. Un rapporto forte con la gente, un rapporto forte con ciò che fa sicurezza per il nostro benessere, che viene dal lavoro, non viene dalle chiacchiere, non viene né dai sussidi che potrebbe dare la politica e che mai non può dare più, né da altre storie. Viene dal lavoro, viene dalla capacità che abbiamo di suscitare interessi verso gli investitori. Questo è il punto. Ecco perché anche io mi associo. Tante più imprese, tanto più benessere. ma saranno piccole imprese. Queste piccole imprese, Luciano però tu lo sai, nascono solamente quando ci sono grandi imprese e quindi grandi investitori che investono e intorno si crea appunto quella realtà di servizio che poi a sua volta nel tempo, se tutto è virtuoso, si sviluppa. Quindi io spero davvero, spero davvero, dobbiamo farlo in ogni modo. Insomma, quello che voglio dire, il benessere futuro dipenderà esattamente da noi. Guaia a pensare che dobbiamo trovare uno che sta a risolvere tutti i problemi nostri. È importante avere persone con esperienza, con capacità, con onestà che dirige la politica. Ma è importante che i cittadini si riprendano in spalla le loro piccole responsabilità e si riassocino tra di loro. L'ultimissima cosa, dopo fare, è sulla vicenda dell'architettura amministrativa istituzionale. Questo lo devo dire? Allora, noi italiani abbiamo fatto un disastro enorme. L'ordinamento italiano, come voi sapete, è stato copiato pari pari dall'ordinamento napoleonico. Perché i sardi, il regno sardo, con i Savoia, che erano un satellite, francamente, della Francia, hanno mutuato tutto dai codici napoleonici. Quindi province, comuni, stato centrale. Se andiamo a vedere, i francesi sono rimasti fedeli nei secoli, è proprio il caso di dire come per i carabinieri, fedeli nei secoli rispetto al loro ordinamento. Sono ancora stato centralista, provincia, e comuni, e comuni, e comuni, e comuni, quindi sono rimasti esattamente come prima. Noi ci abbiamo aggiunto un sacco di altre istituzioni, non solo la regione, ma un sacco di amministrazioni, di altre istituzioni, e istituzioni, e istituzioni ancora, al punto tale che non si capisce più niente, non solo per il costo esorbitante. Non parlo di impiegati, perché il Regno Unito, l'Inghilterra, che pure è stata spazzolata dalla Thatcher 20 anni fa e più, nonostante ha gli stessi abitanti dell'Italia, hanno impiegati perfino superiori all'Italia. Quindi noi abbiamo un problema di nulla di impiegati. Noi non abbiamo più impiegati degli altri. Sono stati utilizzati male dal fatto che purtroppo la politica gestisce direttamente, anziché farlo fare al management. Allora, noi abbiamo un disastro, troppe amministrazioni, troppe istituzioni, moltiplicano i dipendenti pubblici, moltiplicano il cittadino che paga un sacco di tasse e non ha il servizio indietro, e tutta sta macchina non si riesce più a reggerli a soldi. Se voi andate a vedere, la progressione dell'allargamento dell'istituzione e delle amministrazioni nell'ultimo trentennio è pari pari collegato con la progressione delle tasse. Negli anni attanti noi pagavamo circa il 30-32% di tasse, siamo arrivati a più del 50% progressivamente collegate a un allargamento sempre superiore. Questa storia non può continuare, non è un problema solo di province, non è un problema solo di province. Se fosse un problema di province sarebbe anche un falso, perché è vero, le province sono quelle più inutili, secondo me, perché hanno tre funzioni essenziali. Una riguarda gli istituti tecnici, di solito gli istituti tecnici sono in grandi centri, c'è da almeno di 20.000 abitanti, lo possono fare pure al comune, la manutenzione, la gestione di questi strati. L'altra questione sono alcune strade provinciali, lo può fare anche la regione o l'Ans, e l'altra questione è l'ufficio dell'impiego, che io dico in giro è un gatto che non prende mai un topo. Se uno cerca un lavoro sta presto, non perché sono incapaci quelli che ci lavorano, sapere quello che ci serve in giro significa stare in mezzo all'impresa, nelle imprese, in relazioni con l'impresa, ma se no tu non sai cosa serve a loro. Queste tre funzioni si possono ben distribuire nelle altre istituzioni, ma anche i comuni, Lucia io te lo voglio dire, nei comuni, io sono che l'Ama dei Peligni e il mio paese abbia il proprio confalone, abbia il suo Consiglio Comunale, se lo legano e così via. Però, so che si sta migliorando sempre di più, ma perché i servizi li devono fare all'Ama o a Bocca? Tutti i servizi vanno associati, ma non con altri due comuni, con altri 50 comuni di Val. Scusa, bastava nella nostra regione, scusa se ti interrogo, trasformare le comunità montane in unione di comuni che facevano i servizi associati, a costo zero, senza indennità di carni. Sì, ma bisogna scegliere. Sì, così però si perdono anche piccoli potentati locali che bisognerebbe. E poi, nei consorzi di secondo grado ci vanno i rappresentanti di Lama, di Gasoli, di Bomba, di altri, ci vanno. Ma questo è più importante. Noi siamo, almeno la mia organizzazione è per ridurre al massimo, per riorganizzare la macchina, utilizzare meglio gli impiegati, fare meglio i servizi, ma questa storia non può continuare. Non è solo comuni, le regioni devono essere più scarpe. Ho visto che Chiota ha detto che lui associerebbe Marche, Abruzzo e Molini. Io sono molto d'accordo. Perché noi o abbiamo regioni con almeno 5 milioni di abitanti o altrimenti non ce la faremo a dare. Non è un problema di campanile, è un problema di capacità nello stare dietro le esigenze dei cittadini o comunque di possibilità di corrispondere con tante tasse che paghiamo alle esigenze dei cittadini. Se se ne va solamente per soddisfare queste impalcature siamo freschi, non abbiamo più. Il problema è che dobbiamo raggiungere economie di scala in grado di soddisfare le nostre esigenze. Quindi questa storia, parliamoci cari, perché non si è portata avanti? Lo bevamo sinceri. Io stesso ho parlato con Mondi più una volta, mi è sembrato anche convinto, poi si è bloccato. Perché? Perché il sistema dei partiti non ha voluto. Perché contano più coloro che stanno nelle istituzioni e nell'amministrazione anziché i cittadini. Non hanno voluto e questa riorganizzazione bisogna farla perché comunque noi avremo sempre meno soldi. Quindi siccome i soldi ai cittadini non si possono chiedere più perché non si può chiedere di pagare più del 50% di tasse, anzi ci le devono dare indietro perché paghiamo troppo tasse, soprattutto lavoratori e pensionati, troppe troppe tasse invece di altri. Quindi noi sappiamo che andremo di fronte a una situazione sempre più precaria. Quindi o riorganizziamo e ritorniamo all'essenza se vogliamo tenere lo stesso ordinamento. Dobbiamo restringere tutta questa imbalcatura e questa amministrazione ridare la gestione al management e il controllo e l'indirizzo alla politica, non la gestione direttamente dalla politica. La sanità è diretta dalla politica. La sanità deve essere diretta dalla management. Ha ragione, aveva ragione Gastro che diceva ogni volta che tu devi fare una battaglia per ripristinare le mutue. Lui vuole dire che lì alla fine la mutua perché funzionava? Perché bisognava rendere conto e ragione di ciò che si spendeva. Oggi se rende conto ragione a niente. Quindi credo che questo aspetto sia fondamentale per realtà come le nostre che sono fatte tutti i piccoli comuni e così via. Ancora più importante. Non possiamo sprecare neanche un soldo perché altrimenti noi non ce la faremo mantenere la realtà comunitaria su cui abbiamo costruito storicamente i nostri insidamenti e le pretese giuste che abbiamo perché paghiamo un sacco di tassi. Questo è un punto non di poco conto. Vedo però, io stimo molto il Presidente di Mila Romagna, gli ho detto, mi dai l'impressione che ti carichi addosso tutte le vicende regioni come se non ci fosse nulla da rivedere. Sbagli! Sono le regioni e i comuni che devono fare le loro proposte e invece non vanno proposte. Resistono ogni proposta. Questo è un punto non di poco conto di come dovremmo affrontare le questioni e le urgenze delle nostre comunità. Grazie. Grazie. Ci avviamo alla conclusione. La stessa domanda di prima la rivolgiamo a Vento Rosica. Io andro velocissimo. Come gli arrosticini mi sa che dobbiamo lasciare spazio all'altra parte della manifestazione. Io non sono candidabile, quindi ovviamente devo decidere di poter aiutare. Non posso candidarmi perché fino a maggio sono impegnato con l'industria. Invece la mia idea di Italia o la mia idea di nuovo partito, di nuove persone che dovrebbero impegnarsi in politica. Sono veramente sorpreso, mi sono appuntato a delle cose, sono troppo vicine a quello del segretario Moragno e ne condivido moltissimo. Poi le voglio fare anche in conclusione un minuto proprio, come dire, una riflessione mia personale perché non mi capiranno altre occasioni per fare questo. Ritengo che l'Italia deve ristabilire il suo giusto posto in Europa. Noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa e non abbiamo la giusta dignità al lavoro delle imprese europee ma neanche al lavoratore. Dopodiché, parlando di costi di energia, non è corretto che noi continuiamo a pagare l'energia. Continuiamo a pagare l'energia il 29,6% in più mediamente del resto dei paesi d'Europa. E quando si arriva alle tasse, noi siamo come la Svezia, siamo arrivati al 46,8%. Noi siamo cresciuti di 6 punti negli ultimi 10 anni, mentre la Svezia sta retrocedendo da questa lingua. Quindi l'idea che ho io dell'Italia in Europa è un'Italia che probabilmente deve confrontarsi con i paesi europei e deve cominciare a ripensare queste cose. Primo punto personale a Bonanni. Questo è un paese che si deve occupare moltissimo di lavoro, mi perdoni segretario, ma anche moltissimo di pensioni. E lei questo lo può fare. Non possiamo lasciare a un governo tecnico a occuparsi di una popolazione che invecchia e di pensioni e di pensionamento in questo mondo. Penso che persone che vengono soprattutto dal mondo del sindacato devono cominciare a dire la loro amministrativamente su queste cose e non in termini... Dopodiché credo che il governo, i partiti hanno bisogno di persone che hanno già avuto una delega ampia e che sappiano esprimere questa delega in una maniera duratura nel tempo. E l'ultima cosa che le voglio dire, questo è proprio un appello di natura personale per come vedo io l'Italia. Noi siamo di fronte a un nuovo terrorismo che questa volta purtroppo non andrà nelle piazze, ma andrà probabilmente nelle sedi del nostro Parlamento. Noi non possiamo permetterci una polemica o non possiamo permetterci una contrapposizione che sia illegale. Mi riferisco un po' alle cose che accadono attraverso i grillini, i notab, queste cose qui. Noi dobbiamo sicuramente avere delle contrapposizioni all'interno delle istituzioni che siano di discussioni per avere una visione. Le cose forti possono danneggiare ancora di più la politica, le cose forti possono allontanare ancora di più i cittadini della politica. Le persone che hanno avuto una delega ampia negli anni come lei, le persone che conoscono i territori, le persone che hanno il dono della moderazione probabilmente in questo momento non daranno niente a loro stessi perché il momento è difficile, ma possono dare delle cose al proprio Paese e credo che questo sia un dovere di tutti quanti anni. Abbiate comprensione e siate brevi. Io ho una sola domanda e poi concludiamo. Allora, questo salotto politico estivo montano è stato organizzato da un movimento territoriale che nasce dal basso e che si chiama Orientamento Democratico. Sarebbe opportuno non essere anti-antipolitica, nel senso incuriosissimi a quelli che sono i movimenti spontanei da parte di… ti prego di farla tu magari, è meglio voi anzi, non è un ragionamento sbagliato. Ecco, cosa vi suscita il nome Orientamento Democratico? Prima domanda e poi concludiamo. Secondo, noi questo salotto salotto politico estivo montano lo vogliamo proseguire. Vi ringraziamo di essere intervenuti perché ci siete venuti vicino. Quest'altro anno lo vogliamo rifare, quindi vi chiediamo di darci una mano con le autostrade intellettuali di cui si parlava prima e di impegnarvi pubblicamente con noi affinché questo si possa fare. Ecco, Luciano, parto da te. Chiudiamo con questo, con una battuta? Dilla con un microfono perché non si è sentita. Manifestiamo consenso. Grazie e buon divertimento serato.